Luca service is available. For easier boarding, passengers are likely requested to stand on the platform, according to the position of the coach, for the purchase of service level. Attenzione! Treno in arrivo al binario 5 allontanarsi dalla linea gialla. Il treno intercity 531 di Trenitalia, dell'ore 8.56, proveniente da Perugia, è in arrivo al binario 8. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. The Trenitalia intercity train 531 from Perugia, with scheduled arrival day 56, is now arriving at platform aid. Please stand behind the other line. Informiamo i viaggiatori che il treno regionale veloci 23.49 di Trenitalia, delle ore 9.07, per Capobasso, partirà dal binario 20 bis attenzione. Il binario 20 bis è ubicato oltre il termine del manciapieve del binario 20. and'ill pari i viaggiatori sono orientazione talismanato percelli che il treno one il treno tale, che il treno accional è imposibile dure più, che il treno regionale veloci entrato ilское mais' puòร Grazie a tutti. Grazie a tutti.